buonasera e vi auguro già la buonanotte è ancora presto però benvenuti all'ultimo video di nicola da lucia deluxe television quest'oggi sul mio canale youtube parliamo di calcio maschile serie b il benevendo come cita anche il titolo del video vola sempre più in alto batte anche il pordenone in casa per 2 a 1 vittoria ovviamente come al solito favorita 1 e 44 1 e 52 1 e 50 e soprattutto in classifica vola più 17 beh di certo il campionato è lungo non è ancora finito ci sono ci sono ancora 14 partite però comunque il la squadra del benevendo si costruisce un piccolo forziere che poi no se continua così appunto la serie a diventerà realtà diciamo che adesso hanno da una scala da un'altra hanno fatto diciamo quasi due passi e quindi invece per il secondo posto è la lotta serrata cioè lo spezia al secondo posto con 40 punti seguono frosinone crotone 37 poi la salernitana cittadella cittadella pordenone 36 entella 35 perugia 33 eccetera eccetera quindi insomma a parte il benevendo che quasi fa storia a sé però al secondo posto è ambito da tante squadre come di consueto in serie b per l'accesso in serie a magari ci valo spesso in serie a insomma è sarebbe una bellissima cosa spesso formazioni anche come salernitana cittadella pordenone andala perugia pescare quindi niente vola sempre più in alto benevendo e piano piano questo lungo cammino di vittorie io penso che arriverà a dargli la serie assolutamente grazie a tutti buona serata ci vediamo domani buonanotte